Buongiorno, siamo in compagnia del professor Rago, professore un piacere incontrarla. Siamo nell'ambito delle decime giornate di andrologia e medicina della riproduzione e parlando di medicina della riproduzione un capitolo importante, professore, sicuramente riguarda tutte quelle donne e uomini che affrontano un percorso oncologico e che possono però oggi avere la possibilità, superato il tumore, di programmare poi una genitorialità. Sì, è assolutamente vero questo. Oggi purtroppo le patologie neoplastiche sono comunque in aumento ma a fronte di questo aumento c'è anche una maggiore possibilità terapeutica. Sono la prevalenza delle pazienti e dei pazienti che guariscono. Ci sono patologie cosiddette killer, che sono i cosiddetti big killer, da cui ovviamente le terapie hanno meno impatto ma rappresentano una minoranza. E quindi è più che mai importante oggi pensare alla qualità di vita di questi pazienti, che oggi sono pazienti ma domani saranno dei soggetti sani. E in questa qualità di vita non può che esserci l'aspetto riproduttivo. È un argomento di cui si è tanto discusso nei tavoli scientifici, tra i professionisti. Oggi è diventato anche un argomento delle istituzioni. Sia per un cambiamento anche legato alla pratica clinica. Oggi è giusto che i colleghi che ci seguono e i pazienti sappiano che le gonodotropine, cioè quei farmaci che vengono utilizzati per stimolare l'ovaio e quindi poter permettere il recupero degli ovociti, erano vietati l'uso gratuito ovviamente nelle donne che erano affette da patologie neoplastiche, oggi sono invece consentiti dal sistema sanitario nazionale. Quindi questa gratuità aumenta le possibilità di terapie e di ricorso a queste visioni. Ora che cosa manca? Manca che tutti i vari centri che esistono in Italia si costituiscono in una rete, siano più visibili e siano più facilmente raggiungibili. Con delle procedure che siano standardizzate per tutti e con dei centri che siano delle strutture a prevalenza dedicate. Non serve, come hanno già detto le società scientifiche, tra cui quella di cui faccio parte, che è la SIE, che ha firmato un documento insieme all'IOM e al SIGO su quelle che sono le indicazioni alla costituzione dei centri di oncofertilità distribuiti sul territorio, un numero prestabilito e che rappresentano quindi un punto di riferimento. Noi viviamo nel Lazio e il Lazio ha avuto in questi ultimi due anni una riorganizzazione nell'ambito della procreazione assistita. Sull'oncofertilità questa volta la PIL sta come al solito ovviamente ed è giusto che sia così perché è più condivisa. Parte dal basso un percorso organizzativo che abbiamo messo su noi come ospedale Sandro Pertini, quindi centro di infertilità, l'Istituto Regina Elena di Roma, l'Istituto Nazionale di Tumori, dove ha sede la banca del tessuto e la banca del SEMA, del Policlinico Umberto I, abbiamo costituito una rete virtuale, funzionale, che offre a questo punto al paziente oncologico maschile e femminile una opportunità concreta. Questa realtà è già iniziata, abbiamo trattato già quattro giovani ragazze che ci sono stati inviati dall'Istituto dei Tumori e anche dal Policlinico Umberto I e il passo successivo è quello di proporre questo modello alle istituzioni della nostra regione affinché diventi un modello ratificato in maniera chiara e evidente. Per ragazze e ragazzi parliamo quindi di crioconservazione, vediamo esattamente i passaggi, perché magari anche qualche timore nella stimolazione ovarica e vediamo oggi effettivamente che tipo di opportunità ha? La mia risposta è sempre quella, non c'è una controindicazione alla gravidanza nella donna che ha avuto una patologia neoplastica o meglio non c'è una controindicazione assoluta. Anche nelle donne che hanno avuto un tumore al seno e sono anche recettori positivi ci sono delle evidenze scientifiche che ci dicono che addirittura la gravidanza sia protettiva nei confronti della recidiva il che significa che dieci giorni di stimolazione, quindi una gravidanza tra virgolette anticipata non possono essere considerate una condizione ad alto rischio. È ovvio che stiamo comunque parlando di una terapia che va condivisa con la paziente, assolutamente. La paziente sa che ha teoricamente un aumentato rischio un rischio bassissimo, è come in tutte le cose, è come uscire la mattina e utilizzare la macchina è uno dei mezzi più pericolosi che abbiamo, però utilizziamo la macchina magari con più incoscienza di quando invece non facciamo una terapia di stimolo. Per i maschi ovviamente questo è molto più semplice non bisogna stimolare, bisogna semplicemente fare una raccolta seminale, ma in questa semplicità purtroppo sono ancora pochi i ragazzi che sono informati, e questo è colpa nostra è una nostra mancanza di cultura da un punto di vista di classe medica, che non sempre siamo pronti a guardare oltre la patologia. Il futuro potrà essere in qualche modo conservazione del tessuto ovarico si comincia a parlarne, a che punto siamo e che prospettive? Il tessuto ovarico oggi è una realtà, viene ancora timidamente considerato una procedura sperimentale, ma oggi sperimentale non lo è. Ci sono anche delle gravidanze, poche in Italia abbiamo una gravidanza da trapianto di tessuto ovarico, non è facile mettere su una banca di tessuto ovarico, noi nel Lazio abbiamo la fortuna di averne uno presso proprio l'Istituto Regina Elena, diretta dal professore e amico Enrico Vizza, con cui appunto abbiamo iniziato questa collaborazione anche sulla crioconsolidazione degli ovociti. Il tessuto ovarico è una validissima procedura di preservazione in quelle donne in cui, per esempio, il rischio di una stimolazione può essere particolarmente alta, o nelle giovani ragazze in pubertà o addirittura prepubere in cui ovviamente la stimolazione ovocitaria è del tutto inadeguata. E credo da tutto quello che abbiamo detto l'importanza di informazione e anche di proporre alle pazienti e ai pazienti questo tipo di percorso. Chiaramente la priorità è curare il tumore, ma è importante che in un momento in cui chiaramente psicologicamente si è confusi e si è provati, però si sappia che c'è anche questo passaggio. Assolutamente sì, la comunicazione è fondamentale e la comunicazione di questo percorso aiuta psicologicamente la donna o l'uomo a superare quel momento perché intravede immediatamente e visivamente un ponte con il dopoterapia. Bene, professore, ringraziamo moltissimo e speriamo che questo messaggio poi faccia sì che comunque ci sia sempre più una rete di informazione, anche un passaparola, perché no che nel momento in cui ci sia una diagnosi in una persona giovane ci sia e venga detto avrai questa possibilità. Grazie mille.